eccoci qua al parco fantasy nandoci ormai in nottornia che stiamo vieni? no è un'impressione occhio ragazzi ciao 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 oh che sono arrivati altri? non c'è interessa e dove cazzo vanno a entrare? non mi interessa quelle che aspettavo io sono arrivati ecco resta annoia eccoci eccoci questa è stata fatta la televisione ragazzi il problema della camera mia è che non stiamo in mezzo ma ragazzi ho rispettato lo stesso problema 300 rotovolanti non posso più usare tanta roba saluta Francesco ciao Fabrizio bello chicco ecco le altre macchine oh eccoci qua eccoci qua eccoci qua Sì, vengi con scusa andiamo a aprire, tagli un po', andiamo belli da casa e poi andiamo a riportare il suo biscollo e poi andiamo a riportare il suo biscollo bellissimo questo BMW eccoci, eccolo, eccoci è bello, ritardatari non ci vediamo, come dici? guarda, 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 guarda scrivevo tutto a posto io scrivevo subito salutiamo, salutiamo andiamo a fare il reparto serio andiamo a fare il reparto serio eccoli sono morti, sono morti eccoli, eccoli in diretta, in diretta salutiamo a Pasquale, Stefani sono morti l'ho tenuta a quattro anni salutiamo, salutiamo e qui finisce il reparto del biscollo voglio dire ragazzi, ma da che stavo a parlare? guardate che esposizione si la posso parlare? procediamo poi eccola qua, Garros Serena e Tugna ragazzi qui sui 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 la sui la terminate le vetture il 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 il